Salve a tutti da Picchio Verde e oggi parleremo dell'importanza dell'uso e dello sviluppo delle capacità divinatorie di chi pratica stregoneria. Nella wicca tradizionale, quando noi entriamo a far parte, quindi entriamo al primo grado a far parte di una congrega, dobbiamo sviluppare determinate qualità per poi poter procedere nei vari gradi fino al terzo. E' una delle primissime cose che dovremmo imparare, che realmente già ci viene fornita questa informazione già prima del primo grado, infatti solitamente nelle corti esterne, quando si fanno, diciamo, gli addestramenti di base per poter accedere al primo grado, si inizia con il lavoro con i quattro elementi, ma anche con i primi approcci a uno strumento divinatorio. Realmente non ha importanza conoscerli tutti, ma almeno uno saperlo molto molto bene e conoscerlo bene, usarlo bene. Quindi nell'addestramento magico è parte fondamentale saper usare almeno uno dei tanti strumenti divinatori. C'è chi si avvicina alle rune, c'è chi si avvicina ai tarocchi, e poi anche nel mondo dei tarocchi realmente ci sono una marea di tipologie di tarocchi. Ma queste sono le più famose, ma realmente esistono tantissime altre forme di divinazione, tra cui, per esempio, una delle mie preferite è lo screening, che è la lettura dell'acqua. La lettura dell'acqua, quindi usare l'acqua come medium divinatorio attraverso una ciotola nera e fare una lettura con una domanda a qualcuno con lo screening è qualcosa di molto potente e altamente spirituale. In effetti, per quanto mi riguarda, credo che sia uno dei metodi più eccelsi della divinazione. Poi c'è chi usa il fuoco, quindi attraverso lo screening del fuoco o della fiamma, o di un falò. Oppure ci sono veramente tantissime, tantissime tipologie di divinazione che possiamo utilizzare. Naturalmente, io dico sempre, anche dopo tanti tanti anni di esperienza, non riuscire mai a imparare tutti i metodi divinatori e lì c'è anche un po' il talento, il dono. C'è chi è più portato a leggere le foglie di te, chi è più portato a leggere la tazza di caffè o chi legge lo screening o i tarocchi o le rune. Non è importanza, o i ching, per esempio, anche, non è importanza quale strumento scegli, ma che tu sia abile in quello strumento e che soprattutto ti piaccia. E soprattutto che tu abbia avuto anche dei risultati con le pratiche divinatorie e quindi questo ti permette di essere messo un pochino alla prova, però comunque fare degli scambi divinatori all'interno, quindi dei percorsi pre-iniziazione, magari iniziare a conoscere i vari strumenti, iniziare a capire qualcosina. Poi, se vorrai, se farai un percorso sempre secondo all'interno della tradizione, quindi all'interno della divinazione anche lì, poi c'è il tuo lavoro personale che deve essere costante, perché realmente non è sufficiente fare un corso di tarologia per saper leggere i tarocchi. C'è tutta una parte teorica, ma anche tutta una parte pratica e magica che deve essere sviluppata nel tempo e questo, per fare questo percorso, c'è bisogno veramente di anni e anni di esperienza e anche dopo tanti anni che usi uno strumento divinatorio, sempre qualcosa di nuovo da imparare. Io qua dichiaro un po' la mia particolare maniera di vedere la divinazione. C'è da dire che la parola divinazione ne va da due parole, divinazione, quindi azione divina, come il divino si agisce attraverso la nostra mappa del destino personale, la mappa che ci circonda, cioè universale, del territorio dove viviamo, ma anche di tutte le persone che ci circondano. Ma poi l'altra cosa molto importante è saper osservare attraverso questi strumenti divinatori la rete del destino che si intrecciano dove e perché. La mappa è un po' come una sorta di guida dove c'è una coordinata che viene tracciata attraverso la domanda che viene fatta allo strumento divinatorio, ma soprattutto c'è una guida, che è una guida spirituale. Gli strumenti divinatori vanno dedicati a degli spiriti, siano i nostri antenati, per esempio Samain, ci stiamo avvicinando nel periodo di Samain, quindi dedicare in questa epoca uno strumento divinatorio ai nostri antenati che ci guidano, questo potrebbe essere un'idea, quindi saranno degli antenati che, e attraverso il mondo degli antenati, che ci vanno comunicando delle cose. Vogliamo dedicarle a una determinata divinità che ha queste capacità divinatorie, ce ne sono tantissime in tantissimi pantheon, in tutti i pantheon ci sono una marea di divinità maschili e femminili legate alla divinazione, lista a noi capire quali sono magari più connesse alla nostra energia, e poi in base alla divinità naturalmente dovrai scegliere il tipo di divinazione. Certo, con una divinità che può essere legata all'acqua, che è legata all'ininazione, lo scanning è perfetto, lo scanning è attraverso l'acqua, ma poi questo dipende realmente dalle tue capacità, e le tue inclinazioni personali. Perché purtroppo io noto, soprattutto chi non è abituato a lavorare in profondità con lo strumento divinatorio, che solitamente si ferma alle informazioni del significato. Ci sono vari metodi di lettura, generalmente quattro metodi di lettura di ogni strumento divinatorio. C'è la lettura da indovino, che è quella di interpretare, quindi questo si ottiene attraverso la conoscenza acquisita con lo studio, e quindi tu interpreti il contesto e le varie posizioni. C'è il metodo sensitivo, che ti permette di osservare e andare un pochino più in profondità, però è anche a volte dispersivo, perché a volte con il metodo sensitivo arrivano anche informazioni che non sono utili al richiedente. Poi c'è il metodo che viene chiamato intuitivo, che quindi ti dà proprio delle lezioni, il metodo intuitivo dà delle lezioni attraverso quella lettura, che ti deve sviluppare una sorta di saggezza, altrimenti non è intuizione. E poi c'è il metodo profetico, che è il metodo un po' più spirituale, in cui si danno dei messaggi spirituali, a volte anche molto complessi, perché faccio un esempio tra tutti di messaggio profetico, potrebbe essere tipo l'oracolo di Delphi, che ti dava una previsione attraverso delle parole che andavano interpretate, andavano chiarite, e lì è un sistema profetico, perché è una connessione profonda con la divinità, in questo caso con Apollo, le sacerdotesse, e da lì ricevevano quell'informazione e dopo quell'informazione doveva essere interpretata. Quindi, come vedete, ci sono vari metodi, vari tipi di lettura, dovete solo cercare il metodo che funziona più per voi, e buono studio e buona divinazione. Vi ringrazio da Picchio Verdo, spero di sentirvi presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.